Bella bella ragazzi, noi ci troviamo nell'incarico di ricerca delle bottiglie di colore blu ghiaccio ragazzi, quindi ci troviamo a scendere a castello corallo esattamente in questo punto quindi scendiamo esattamente qua ragazzi, zoomato e all'entrata proprio del castello qua ragazzi ci troviamo la prima, come vedete lì a mezz'aria ci sarà la seconda e poi dritto per dritto dopo aver recuperato la seconda ragazzi ci sarà l'ultima che è la terza che troviamo proprio davanti a noi ragazzuoli anche per questo è tutto ragazzi, come sempre spero che vi sia stato utile e bella bella